Stasera in tv i programmi del 26 febbraio 2018, la mossa del cavallo, Matrix e litigi d'amore stasera in tv lunedì 26 febbraio 2018 su Rai 1 vai non dal film la mossa del cavallo tratto dal romanzo di Andrea Camilleri mentre su canale 5 potremo seguire una puntata speciale di Matrix con la conduzione di Nicola Porro in vista delle elezioni politiche del 4 marzo tra i programmi in onda stasera in tv anche litigi d'amore, il film con Kevin Costner ma la politica invade ancora Rai 2 con Parlamento elezioni politiche 2018 Lo chiamavano Trinità, è il film che sceglierete 4, ancora una volta la coppia Terence Hill e Bud Spencer E, da non perdere su tv 8 le verità nascoste e per chi ha voglia di una commedia c'è su 9m rdiz Di seguito le anticipazioni della guida tv zapping sui programmi in onda stasera in tv 26 febbraio 2018 Su Rai 1 c'è la mossa del cavallo Alle 21,25 va in onda il film tv tratto dal romanzo storico di Andrea Camilleri Protagonista Michele Riondino consigliatosi su Rai 2 c'è Parlamento elezioni politiche 2018 Conferenza stampa Alle 21,00 la tribuna elettorale che ospita i leader politici in vista del 4 marzo consigliatosi su Rai 3 c'è lì Tg d'amore E, il film commedia diretto da Mike Binder con John Allen e Kevin Costner consigliatosi su canale 5 c'è Matrix Puntata speciale stasera per il talk show condotto da Nicola Porro Ovviamente una puntata dedicata alle elezioni politiche del 4 marzo consigliatosi su Italia 1 c'è Point Break Alle 21,20 il film per la regia di Erickson Core con Edgar Ramirez e Luke Bracei consigliatosi su Rai 3 c'è lo chiamavano Trinità Alle 21,15 il film commedia per la regia di E.B. Clucer con Terence Hill e Bud Spencer consigliatosi sulla 7 c'è Munich Hanno ora un film in onda stasera in tv in prime time alle 21,10 Diretto da Steven Spielberg con Eric Bana e Daniel Craig consigliatosi su tv 8 c'è le verità nascoste I programmi tv proseguono con un altro film Questo diretto da Robert Zemeckis con Harrison Ford e Michelle Pfeiffer consigliatosi su 9 c'è MRD Alle 21,25 il film commedia per la regia di Steven Brill con Adam Sandler e Winona Ryder consigliatosi I programmi tv I programmi tv